di essere un debito, questo sì cioè, e però il debito non è mai da solo da soli non si va da soltare una delle cose che dobbiamo imparare perché l'abbiamo adesso imparato è di camminare insieme è di camminare insieme, di fare dei percorsi insieme non di tenersi insieme, di chiudersi ma di accompagnarsi in un po' dei percorsi per cui riduciamo questo effetto da dire, va bene, adesso può confinare la gente come faccio? mi dice la mia mamma quando si produce questo effetto siamo perduti siamo perduti e se mi permette Don diciamo un nome di Zara Omar questo è un nome un po' Don Omar è un po' diciamo di materializzare ma no no dopo spiego il pezzo Don Omar, se si spiega il pezzo no, questo Don Omar è un pezzo e mi permette di fare il pezzo perché si scrive da quel punto che a cui è di molto caro la cosa del perdersi quando ho detto la sicurezza, la salvezza e che le... allora nel Vangelo nel Vangelo di Cristo nel Vangelo di Cristo è una cosa molto chiara che perder la perdizione di perdersi è la stessa parola è lo stesso movimento che a cui ci invita Gesù quando ci dice perdete la vostra vita o chi perde la sua vita per me questo è un punto cardinale non c'è scritto da una parte c'è una perdizione purtroppo molti di voi hanno una certezza forse perché a me non hanno insegnato sbagliato ma se facciamo il tempo ancora a fare un pezzetto di vita sana non c'è scritto lì c'è la perdizione e allora tu trattieni la tua vita tieni la libera tranquilla controlla tutto no? non c'è scritto io non l'ho letto lì non c'è scritto nel pensiero greco c'è scritto così ma nel Vangelo non c'è scritto così nel Vangelo c'è da una parte la perdizione e dall'altra parte c'è chi perde la sua vita la tua ecco secondo me questo è un punto cardinale perché noi diciamo abbiamo qualcosa da dire a questo tempo non che si è perso non se gli abbiamo dire avete visto il tempo che tu vorrei andare alla base tutti lì verso che siete persi adesso li mettiamo tutti noi no questo non è il Vangelo ma il Vangelo potrebbe provare a vivere nelle nostre contemporanze tu pensavi di trovare la vita diciamo correndo come un disperato e cercando di afferrare cose o persone o relazioni di quali anni ti hanno detto una cosa sbagliata ti sei perso ti sei smarrito era un movimento simile ma molto diverso e cioè che per essere pienamente te stesso appunto il problema sei te stesso cioè il problema sei tu per vivere pienamente diciamo il nostro problema è riuscire a vivere oltre noi questo è il tema della libertà cioè questo è il tema diciamo per quanto mi riguarda diciamo che può parlare a questo tempo se i cristiani in questo momento non sono uomini e donne in comunità che fanno vedere che si può vivere al di là del proprio interesse della propria sicurezza delle proprie preoccupazioni perché così c'è più vita se noi non siamo capaci di far vedere questo il mondo non è interessato alla scorsa che facciamo non ne effiega niente virgola giustamente io credo che questa sia una grandissima questione è quello che Papa Francesco sta facendo di dirci tutte le maniere che ci sono i limiti e anche perché magari a Pagnano Dona ci possono essere qualcuno che ha delle incertezze su questo c'è una grande continuità nelle tante differenze tra Benedetto XVI e Papa Francesco perché Benedetto XVI che è un grande virtuale tedesco con il loro brico di ferro un uomo straordinario dice no che è stato il senso del suo lavoro del suo significato dice in occidente ha tante ragioni che adesso possiamo spiegare si è creata una frattura tra la ragione che diventa la serpettura il giorno in calcolante tecnica e la fede e queste due dimensioni che si sono parlate per tanti secoli non parlano più e allora noi abbiamo la società che va avanti per tutto suo e la fede che va avanti e poi arriva Papa Francesco che viene dall'Arzentina che è un'istante a Casinaro che non è europeo che dice cari cristiani e in particolare a cari europei dove c'è la scristianizzazione se volete affrontare quel problema di Papa Francesco Benedetto cioè questa scollatura della ragione a questi tecnici non ci vogliono i professori e ci vogliono anche i tuoi non ci vogliono non ci vogliono non ci vogliono neanche i teori ma fondamentalmente ci vuole che i cristiani i uomini e le donne tra le cristiane si immergano nella realtà immergetevi nella realtà degli uomini e delle donne di questo tempo non siate preoccupati della vostra sicurezza state vicino e in particolare non perché siamo alla carica stiamo vicini in particolare a questa immagine della nostra società perché da lì forse si capirà quanto siamo malati noi e immergendomi nella realtà forse troveremo la strada per ricomporre la ragione e la fede forse tra due tre quattro generazioni ma prima immergetevi nella realtà e fatevi le risposte il contrario di quello che ho fatto stasera che ho fatto le risposte per cui lasciate perdere diciamo così immergetevi naturalmente e immergetevi nella realtà ringraziamo per aver guardato la seconda e generale due minuti ancora della vostra pazienza nella fine e nell'inizio che molto vivremo e a ricercarti e Mauro Magatti qui potete prendere visione e poi avete tutti i canali in voi e potete acquistare il test comunque lo lascio qui così potete vedere e come vi ho promesso dato che ho aperto il scatolone dopo il terzo ho portato anche due testi che abbiamo citato l'epoca delle versioni di Cristi di Giangelo Zajani e di Rosmit e di questo di Canale Internaio che lo ho di Sabia anche qui non va in un momento e che è soltanto visibile poi un'altra cosa l'intervento della professoressa Orioni di questo del professor Magatti Orioni è già su YouTube lo sono pagato e sarà domani due giorni non potete mettere pubblicamente queste cose no pensiamo ho anche un solo professore sarà speribile e poi un'altra cosa che vi devo dire che cosa non ne ricordo più comunque che ci sono gli appunti dal professor Orioni proprio degli appunti che potete tirare se non lo avete fatto ci diamo un appuntamento a questo punto martedì prossimo 13 con lo suo amico Silvano resistenze dell'umano e uniti e poi dato che il professor ha detto che quelli ovviamente dovrebbero far passare la loro ricchezza a quelli più giovani ancora più anni quindi vi metto volete a prendere i vostri lasciati alla cucina e mi raccomando siate felici perché sono fatti ancora crescere grazie a tutti e buonanotte grazie